Sì, ma facciamo per assurdo che anche sua moglie non lo volesse questo tavolo. Tano, Tano, lo vuole. Farebbe di tutto. Perché ora come ora, dalla divisione dei beni della società, è maggiore il valore di quello che sta dando a me. L'anno 2017, il giorno 20 del mese di maggio, in Roma, via Cabo 63. Che è un coro? Siamo in chiesa, siamo? Avremmo che si fa cantare questa cosa? Ma perfino ha ammaccato il tavolo. Dove? No! È alla porta sempre! Sento, per le luci! Va bene, va bene, va bene! Non c'è per proprio niente, non ci vede. Io, il tavolo, non lo voglio più. Il tavolo, non lo prendo neanch'io. Lui va a mettere a piangere. Ma che state facendo? Io sto benissimo. Io ho detto santo cielo per fare un'invocazione al cielo. L'altro che mi sentivo male. Vogliamo fare pure il 118? Guardate che una volta se sono sudato. Un notario che suda, non si è mai visto. Io l'ho fatta tre volte questa cosa. Se la dobbiamo fare, la dobbiamo fare fatta. Bene! Io faccio il fiolo che va in cucina. Io faccio il fiolo che va in cucina. Io faccio il fiolo che va in cucina. Un, due, tre, azione! Andiamo. Dillo che questa cosa ti piace, no?